Sto provando in queste ore un prodotto davvero eccellente, arriva sul mercato proprio in questi giorni anche in Italia vede il ritorno di questo marchio nei negozi, parlo di HTC U11 Prima di avvicinarci a questo smartphone e di mostrarvi esattamente tutti i dettagli che contraddistinguono HTC U11 Voglio fare una piccola parentesi dedicata proprio al ritorno in Italia Finalmente troveremo ancora nei negozi il nuovo U11 Finalmente tra l'altro tornerà in generale nei negozi HTC con una linea di prodotti che non sarà solo top di gamma ma che nel corso dell'anno ci porterà delle sorprese anche ad un costo molto più contenuto Ma adesso è venuto il momento di guardare da vicino, dunque ancora una volta HTC U11 Ecco dunque HTC U11, arriva in questi giorni anche in Italia, il prezzo è di quelli importanti siamo insomma, ruotiamo intorno ai 700 euro, non dico prezzo preciso perché è impossibile trovarlo online però guardate la caratteristica, è meraviglioso questo colore cangiante Vedete man mano io muovo il telefono l'impatto cambia dal viola al bluette all'argento veramente bellissimo, dal punto di vista estetico è bellissimo Per quanto riguarda poi le finiture del telefono, vedete questa liquid surface costruisce praticamente un'unica soluzione vedete meraviglioso secondo me l'effetto cangiante, un'unica soluzione tra copertura del telefono e la superficie invece di quello che lo circonda, la parte metallica in pratica che fa da cornice a questo telefono secondo me meraviglioso Andiamo con ordine, pulsante di accensione, volume rocker su questo lato sulla parte superiore del telefono il cassettino micro sd e nano sim poi bilanciamento del rumore e ancora da questo lato invece un altro ecco questo tra l'altro vi faccio vedere anche i tagli che sono stati fatti per la parte di antenna praticamente vedete non c'è parte di antenna di connessione che è visibile nel telefono parte inferiore con uno degli altoparlanti boom sound, l'attacco da porta USB type C che è quella ormai che viene adottata da tutti i principali telefoni sulla parte superiore, nella parte superiore anche la fotocamera 12 megapixel con la possibilità di riprendere filmati a 4K la parte frontale invece con una fotocamera che pensate arriva addirittura a 16 megapixel ed è in grado di riprendere filmati con la qualità full HD caratteristiche di questo telefono, beh adesso poi ci arriviamo dopo alla caratteristica principale però una di quelle che vengono presentate è quella del famoso HTC Sense Companion che vi aiuta essenzialmente a gestire il telefono e vi dice essenzialmente anche come fare per avere informazioni supplementari di volta in volta utili eccolo HTC Sense Companion di volta in volta utili per la gestione del telefono i suggerimenti cambiano, ad esempio questo riguarda la salute ad esempio io posso dire ok certo lo voglio sapere adesso non ci sono consigli in questo momento dell'HTC Sense Companion che riguardano la salute però tipo oggi pomeriggio a un certo punto invece all'ora in cui io di solito torno a casa mi ha voluto dire quali possano essere invece le situazioni, quale possa essere la condizione del traffico allora credo che conosciate già tutti bene il dettaglio per quanto riguarda il display da 5,5 pollici è un display con una definizione elevatissima 1440x2560 pixel ha una densità anche di pixel che è veramente notevole questo tra l'altro forse lo sapete è un super LCD 5 con una leggibilità e anche un angolo di visione davvero notevoli bello 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 dal punto di vista proprio della resa e della luminosità ci sono 534 pixel per pollice, c'è una superficie del display che è del 71,4% rispetto alla superficie totale non è il massimo però insomma tutto sommato ci si può anche un po' accontentare non si può avere secondo me tutto nella vita c'è come ormai siamo abituati a vedere su HTC questo in primo piano, quello che una volta veniva chiamato semplicemente BlinkFeed forse è stato scelto di semplificare un po' il nome con un po' di contenuti a caso devo dire io fatico un po' a trovare qualcosa che mi interessi però tutto sommato avete la possibilità in questo modo di impostare essenzialmente che tipo di aggiornamenti avere e soprattutto vedete in questo modo di scegliere i tipi di argomenti che vi possono risultare più interessanti vedete si gestisce, qui si gestiscono semplicemente i pannelli della schema fate conto che questo telefono lo stiamo vedendo praticamente insieme allora sensore dell'impronta digitale sulla parte frontale questo in pratica, questo qui è il sensore dell'impronta digitale funziona bene, è abbastanza veloce nello sblocco ecco la velocità è una delle caratteristiche secondo me fondamentali di questo telefono che comunque ha una reattività veramente notevole vi faccio vedere in qualunque situazione adesso siamo collegati con il 4G Plus tra l'altro di Team vedete essenzialmente come in questo momento la gestione ovviamente di una cosa come questa è abbastanza semplice la navigazione su quello che è un sito internet con Snapdragon 835 disponibile diciamo insomma che ce la può fare tasti sono sulle cornici da questa parte il tasto funzione da quest'altro invece il tasto indietro questo che è il tasto centrale tenuto premuto dall'avvio al Google Now vedete essenzialmente quello che una volta si chiamava Now on Tap altra caratteristica però fondamentale lo sapete allora vi volevo far vedere la fotocamera la partenza della fotocamera con anche essenzialmente le modalità di utilizzo che voi avete a disposizione ve le mostro adesso un po' più da vicino qui avete le impostazioni generali della fotocamera vedete anche la modalità Pro con cui potete non solo catturare le foto in formato RAW ma anche governare essenzialmente tutti i controlli che volete fare sul vostro telefono sempre abbassando la tendina avete invece la possibilità di gestire le altre modalità di funzionamento di fotocamera oppure di videocamera per quanto riguarda la fotocamera frontale ecco vi faccio vedere c'è anche il panorama del ritratto questa è una funzionalità molto carina ripresa anche da HTC U Ultra per cui con gli amici potete fare dei giochi molto divertenti moltiplicando anche le persone nelle fotografie questa è una cosa molto molto carina è curioso come HTC si sia concentrata nella traduzione utilizzando essenzialmente autoritratto anziché selfie video, selfie picture però insomma è giusto che venga utilizzato questo nome italiano ma allora il tema però che dovremmo affrontare è anche quello di Usonic vedete ecco una discreta cattura delle impronte digitali con una superficie così lucida però il tema forse che dovremmo affrontare è quello di Usonic un'altra delle caratteristiche veramente importanti di questo smartphone che essenzialmente ha la capacità di adattare l'emissione sonora degli auricolari alla forma dei vostri orecchi questo è un sistema che è molto sofisticato da utilizzare e che promette una qualità audio di altissimo livello tra le tante caratteristiche di questo smartphone vi ricordo anche la certificazione per acqua e polvere IP67 con la resistenza fino a un metro di profondità per 30 minuti ma lo sapete che la vera cosa decantata è quella di poter schiacciare questo telefono avete visto cosa è successo? io ho schiacciato essenzialmente i lati del telefono ho premuto proprio il telefono e si è accesa la fotocamera se io adesso per farlo vedere prendo qualche cosa che ci mostri che stiamo scattando una fotografia se io adesso schiaccio ancora con il fianco del telefono vedete ho scattato una fotografia quanto questo possa essere utile quanto questo possa essere veramente efficace nel telefono lo lascio dire a voi io non vi nascondo che qualche perplessità onestamente ce l'ho andando a vedere invece il menu del telefono essenzialmente siamo abituati a un menu che già conosciamo con essenzialmente la personalizzazione che è data attraverso la gestione di widget delle quantità di pagine che mettete scusate ho sbagliato il pulsante ho preso il pulsante sbagliato sono abituato a gestirli esattamente al contrario vedete scanner delle impronte digitali quindi la possibilità della personalizzazione delle impronte digitali il menu di sicurezza il menu con cui si ricevono dati da un altro telefono il controllo dell'Edge Sense l'HTC BoomSounds quindi vedete basta premere per scegliere quale modalità volete per il BoomSound e poi vedete la gestione di Usonic che ha bisogno però dei suoi auricolari e poi via via la gestione di tutti gli elementi del telefono senza grandissime novità o cose eccezionali ecco ci sono un po' invece di volevo mostrarvi di movimenti quindi ci sono ad esempio la possibilità di toccare due volte vedete il tasto di accensione per accendere la fotocamera vedete il doppio tap per attivare e per spegnere scorrere in alto per sbloccare scorrere verso sinistra per passare alla schermata home tutto questo ovviamente quando voi avete il telefono spento però in modalità verticale ecco la cosa fondamentale è che questi comandi funzionano quando il telefono viene messo in modalità verticale quindi ad esempio vedete questo è una delle modalità io lo metto in modalità verticale vedete con il doppio tocco il telefono si sblocca teoricamente con il doppio tocco adesso provete lo fa ancora questo è il bello ovviamente di quando si fanno le prove teoricamente in orizzontale questa è una cosa che non dovrebbe funzionare come sempre ci sono i link vedete alla schermata di blocco quindi potete essenzialmente personalizzare le applicazioni che volete mettere in questo punto e che lanciate con l'apertura allora vediamo un attimo anche di trovare il suono di vedere come si comporta questo boom sound in questa versione in cui vedete i due altoparlanti non solo tutte e due sulla parte superiore adesso andiamo a pescare l'apertura dello streaming di radio number one sentite l'audio la definizione dell'audio vi ricordo che tra l'altro lo streaming di radio number one ha 128k quindi comunque una discreta qualità non elevatissima ma comunque discreta l'audio ha delle frequenze molto ben definite l'unica cosa che troverai come debolezza di questo audio è il fatto che i bassi non sono molto definiti in passato diciamo che lo sono stati molto di più le prime versioni del boom sound diciamo prediligevano il fatto di avere dei bassi un po' più pronunciati insomma abbiamo avuto un primo impatto poi magari nei prossimi giorni vedremo anche di conoscere un po' di più questo telefono con tutte le sue caratteristiche principali ha Android 7 a bordo ha veramente delle caratteristiche belle dal punto di vista non solo estetico ma anche pratico la velocità è la cosa che mi colpisce di più quello che invece non mi piace per niente ve lo voglio dire è il client di posta elettronica quello di HTC è proprio brutto onestamente è l'unica cosa su cui mi sento di dire che proprio non è stato fatto un buon lavoro cioè rispetto agli altri client di posta dei top di gamma secondo me questo è forse il client più brutto però insomma torneremo a parlare di HTC U11 se avete delle domande su questo prodotto non esitate scrivetemi mandatevi messaggi iscrivetevi a proposito al canale ricordatevene a proposito già che ci siete vi ricordo anche che le Daily Tech News vanno sul nuovo canale Daily Tech News TV iscrivetevi anche a quello basta finito così io vi ringrazio vi auguro una buona giornata baci e abbracci saluti a tutti e buon Natale grazie a tutti grazie a tutti